In città alta, due studentesse si imbattono in un monumento un po' particolare e di cui non riescono a comprendere bene le origini. Guarda quella scritta! Una scritta? Io vedo solo un cubo di pietra. Sì, su quel coso lì, sono incise delle parole. L'iscrizione sembrerebbe essere il latino, Cesar Rex Dux. Vista la curiosità delle ragazze, una misteriosa signora si avvicina e senza presentarsi inizia a parlare. In piazza Mascheroni, vicino a un grande pozzo, si trova un pilo portabandiera costituito da due cubi di pietra. Sul lato est del cubo superiore, all'interno di un riquadro scavato, si legge in caratteri maiuscoli l'iscrizione latina Cesar Rex Dux su tre righe. Si notano il dittongo a E espresso tramite lo specifico grafema e la lettera U scritta come la V, secondo la moda archaizzante. Le tre parole significano Cesare, Re, Comandante. Ma sarà il famoso Giulio Cesare? Non vorrei sbagliarmi, ma non mi pare che fosse anche Re. E se la scritta sotto ci aiutasse a capire meglio? Mi pare infatti che ci sia indicato l'anno. Nel cubo inferiore presenta l'iscrizione F.E nella prima riga, nella seconda anno e nella terza il numero romano XI. La chiave di interpretazione è lo scioglimento delle due abbreviazioni, che fanno riferimento all'età fascista. L'iscrizione significa nell'anno XI dell'età fascista. Il monumento risale quindi al 1933, quasi duemila anni dopo Giulio Cesare. Quindi non risale nemmeno all'epoca romana, ma al fascismo. Guarda anche qua a destra, si vede che è stato abraso un simbolo fascista. Sarà stato sicuramente un fascio. Ma cosa c'entra Cesare con il fascismo? Mussolini si richiamava spesso all'impero romano e ne aveva preso molti simboli. Come se non potesse trattenersi dall'intervenire ancora, la misteriosa signora si mette a spiegare anche questo. Il fascismo elaborò una propaganda che presentava Mussolini come duce, parola chiaramente derivata dai romani. Inoltre si esaltava l'Italia come impero e Mussolini era il capo assoluto. Negli slogan e nelle iscrizioni si utilizzavano spetto i concetti di Cesare e Re, per sottolineare un'autorità assoluta appoggiata sull'eredità dell'antica Roma. Nei monumenti fascisti si è spesso una sovrapposizione tra elementi romani e un presente che, almeno a livello di facciata, doveva corrispondere per grandezza al mito di Roma. Per fare un altro esempio, Mussolini venne chiamato anche Nuovo Romolo. Certo che non avremmo mai immaginato che queste iscrizioni si riferissero al fascismo o che un regime potesse fare un riuso tanto sistematico e propagandistico della storia. Quanto abbiamo da imparare. Anche solo a partire da poche parole, incise sulla pietra. E proprio qui, in una piazza davanti alla quale siamo passate decine e decine di volte, senza mai accorgersi di nulla. Ma guarda, ci sono altre iscrizioni sugli altri lati dei cubi del pilo. Chiediamo alla signora se ci può spiegare. Ma mentre discutono animatamente, la misteriosa signora si è dileguata. Le due ragazze rimangono con tante altre curiosità, ma in questa giornata hanno imparato l'importanza dell'ipigrafia, una disciplina che può spalancare moltissime porte e raccontarci tantissimo di quanto ci circonda. Il problema è che le iscrizioni sono silenziose. Spetta a noi dar loro voce.